bene 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 siamo in diretta ora su instagram e stanno arrivando i primi amici sto aspettando daniele capezzone tra poco arriva daniele saluto qua un po di amici che mi stanno salutando eccolo qua daniele capezzone eccolo qua devi chi fare eccolo visualizza richiesta eccola daniele trasmetti in diretta con si vede il simbolo del suo laicrazia un suo libro che vi consiglio a tutti quanti vediamo se daniele sta entrando e tra poco entra perché dobbiamo parlare del green pass che è il tema di quest'istante ancora non vedo da niente ecco grandissimo mi senti com'è l'audio perfetto è un audio da populista da marciapiede perfetto è veramente un personaggio io e te siamo due populisti da marciapiede e subito guarda daniele io ti ringrazio perché è oltre quarta repubblica continua in via diversa tu sei uno degli ospiti più importanti di quarta repubblica anzi l'abbiamo fatta insieme quest'anno l'abbiamo fatta insieme quando parlavamo del lockdown quando parlavamo dei vaccini quando ora stiamo parlando del green pass purtroppo quarta repubblica per qualche settimana in vacanza io lo sono tu no che cosa sta succedendo daniele veramente qui abbiamo più tempo rispetto al tuo 1 2 3 della quarta repubblica la tua note e la tua sintesi sono straordinaria qua però prenditi il tuo tempo e fammi capire facci capire ci sono già duemila persone collegate cosa sta avvenendo daniele no senti primi dieci secondi per una cosa che non si fa però in italiano credo si dica grazie a grazie a te per gli spazi di libertà che offri e anche dimentica il fatto che io ho l'onore di partecipare e di stare nel presepe ma immagina se in questi 18 mesi non ci fosse stata quarta repubblica e gli spazi che hai costruito ognuno può capire quello che sarebbe stato il panorama senti per il resto noi rischiamo di commentare un film che ancora è in sala di produzione perché il consiglio di ministri è in corso devono fare una conferenza stato quello che si capisce finora è prima botta stato emergenza prorogato per altri sei mesi seconda botta si va in giallo già con il 10 per cento di terapia intensive in arancione col 20 per cento quindi si riprende la strada delle chiusure voci dicono che pezzi di centrodestra in consiglio dei ministri chiederebbero di alzare queste soglie mentre sul green pass le notizie in questo momento 1903 sono che non scatta dal 26 luglio ma dal 5 agosto e va bene le discoteche restano chiusi ma come serviva il green pass per aprire discoteche restano chiusi il caffè al bar si senza green pass al bancone ma seduto no quindi per sederti al bar al ristorante green pass anche con una sola dose ora se uno si vuole consolare facciamo finta di volerci consolare facciamo questo gioco a quelli che vogliono consolarsi a destra diranno stasera beh a isto però non si parla di treni di bus e di metro non si parla di scuola questa c'è andata bene ho capito però mi pare che si sia perso su tutto il resto è inutile che proviamo a far finta di nascondere la sconfitta che sul principio perché una volta che ti incammini su questa strada secondo sul terrore perché hanno ricreato un clima di terrore su tutto io voglio vedere con che faccia riparleranno la ripresa v il rimbalzo prenotate venite perché il clima ecco basta farsi un giro per strada la gente di nuovo terrorizzata e poi sarà un casino pratico il tuo bar sarà controllato il mio no il tuo viene sanzionato il mio no sarà un bordello omicidiale anche su questo allora intanto fammi fare un po di ringraziamenti perché in queste dirette instagram noi ci autofinanziamo e ci sono molti amici che hanno acquistato i badge sono persone che vogliono dare una mano alla nostra battaglia Ilaria Accordini la ringrazio e Valentina Agri 91 poi P Michele 76 bis scusami ma tutti questi devono essere chiamati nome e cognome perché sono quelli che non solo la pensano come noi ma ci danno un contributo fattivo un caffè quelli che noi dovremmo prendere con con come si chiama con il green pasta niosa rio pizza e poi paolo 68 30 insomma c'è un sacco di gente che ci sta dando ci sono almeno una ventina di persone che ci hanno dato la mano però c'è un altro elemento se vi posso permettermi qua dice di sotto wine bar dice il green passi una vergogna assoluta perché in realtà e capezzone e tu hai daniele fatto il punto sintetico su alcune cose su cui però non possiamo sottovalutare la prima il clima del terrore io oggi ho visto partirei da questa ho visto due cose tre cose incredibili che vorrei citare e vorrei sentire il tuo parere la prima un tweet di alberto zangrillo non so se tu l'hai visto il tweet di zangrillo ecco me ecco me ecco me neanche ci siamo preparati dillo un po perché è una cosa pazzesca guarda te lo recupero al volo ma lui già in settimana aveva dato gli ingressi nel suo nel suo ospedale aspetta che lo recupero lo recupero al volo eccolo qua grazie a vidali davide punto punto e marta ma un sacco di amici che ci stanno manufani gordon giova lord sawyer ma non sai laura cinelli tutti i nostri sostenitori carolina ben piano la conosciamo vai 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 per favore con lo zangrillo di oggi dice dai dati ufficiali al 18 luglio in italia i decessi da code nei giovani sono 0,00 83 per cento negli under 30 e sono in larga parte ascrivibili a soggetti fragili e non vaccinati poi aspetta che secondo me il più figo eccolo qua era quello che lui aveva fatto tre giorni fa lunedì giorno della tua trasmissione esatto aveva dato gli accessi covid nel suo ospedale al san raffaele settimana 10 7 luglio quindi una settimana piena dice 11 accessi covid 11 100 per cento non vaccinati quindi 11 persone non vaccinati 8 dimessi 3 ricoverati 0,3 per cento di tutto il pronto soccorso ma di che parliamo a ieri ieri ci sono stati in terapia intensiva in tutta italia nove ingressi nove in tutta italia in tutta italia ora senti una persona che ti è cara e che mi è cara antonio martino scherzando contro i moderati diceva siate moderati almeno nella moderazione no e a questi dovrebbero essere siate cauti almeno nel principio di precauzione cioè ma ma si può bloccare un paese così io non non capisco però davvero in questa partita draghi che ha comunque un istinto da da persona di buon senso io voglio sperare in un colpo di scena in una correzione in corso d'opera perché così davvero si ricrea un clima alla speranza no ma il terrore in realtà è la colpa fondamentale c.raffa 73 come tanti altri vi ringrazio tanti altissime badge greg alessio f gorla 59 ricardo morelli però il punto mormelli la cosa fondamentale è la seguente oggi sul corriere della sera hanno fatto vedere questo è un altro tweet di zangrillo che a cui io tengo molto perché è una cosa incredibile hanno fatto vedere una sai quei intub quelli che hanno le tute spaziali e ragazzi ma che foto è questa sul mio giornale a cui sono molto affezionato sul giornale c'era un aumento dei casi in inghilterra del 60 per cento e come dando il senso che in un paese iper vaccinato come l'inghilterra stesse succedendo il disastro il che vuol dire che sono passati da sei a dieci morti al giorno in una settimana i dati peraltro non sono neanche ufficiali in inghilterra ma non è ci stiamo parlando di numeri che sono nulla rispetto ai 1800 morti che ogni giorno purtroppo italia inghilterra hanno nei loro ospedali per le malattie tu hai qualche elemento perché l'avevi detto a quarta repubblica i dati i dati sono di regola ogni giorno che il buon dio manda sulla terra 500 morti in italia per causa oncologica e 700 per causa cardiologica cioè questi sono i dati che io penso spero di sbagliare saranno aggravati nei prossimi mesi perché tu c'hai alle spalle 18 mesi di chemioterapie saltate di controlli saltati di sintomi cardiologici sottovalutati quindi io ho timore che sulle malattie grosse tu avrai nel prossimo anno un appesantimento aspetta un secondo acciaio laicrazia libro rivelatore ma che è acciaio il tuo libro laicrazia stai scrivendo un altro perché scusami perché laicrazia ha molto a che vedere con quello di cui stiamo discutendo ora però perché insomma draghi non dovrebbe essere un soggetto alla laicrazia cioè il tuo libro laicrazia è fatto sul precedente governo e stile cioè quello del dei lai hai capito la domanda quando c'è la mia impressione è questa proprio lui l'uomo che non ha i social l'uomo che non sta nel dibattito giorno per giorno però forse mi permetto con umiltà di dire sottovaluto a una cosa che in quel libro c'è ma soprattutto c'è nella dibattito politologico vero cioè oggi un politico agisce in tre campi emotivi uno ce lo siamo scordato la speranza no un reagan che uno purtroppo ce lo ricordiamo è la rabbia ma questa è la paura ma se tutti adatti al campo emotivo della paura e prendi decisioni solo di questo tipo ma come fai poi a spingere sul versante della crescita della ripartenza del paese questa è una cosa che proprio mi sfugge come non la comprendano a meno che ma questo mi preoccupa ancora di più e lo domando a chi ha competenze economiche ancora maggiori delle mie a meno che tutto il loro investimento sulla crescita è solo sulla spinta pubblica tutto recovery fa tutto il governo fa tutto lo stato tutto grandi opere ma un paese si risolleva solo con la domanda pubblica all'intervento pubblico io ho qualche perplessità max malune sotto e underscore 12 voi il vaccino l'avete fatto max adesso mi dai è una domanda che mi avete fatto e mi dà proprio il adito a dare una risposta vedi oggi sul io sì l'ho fatto ne ho fatte due 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 dosi e tra l'altro mi hanno fatto male perché sono stato male sia la prima dose sia la seconda dose sono stato male semplicemente perché la mia risposta immunitaria non aveva bisogno del vaccino posto che ho avuto il covid ma l'ho fatto e perché proprio non volevo farmi dire quello che oggi leggo su repubblica sapete che cosa lei dico su repubblica ed era la battuta che tu avevi fatto all'inizio questo messina dice e nicola porro il quale al giornale sostiene che il green pass è semplicemente stupido lo è stupido per quello che ha detto capezzone perché è molto difficile da attuarlo ed è molto difficile praticamente pensare che persone che non hanno fatto il vaccino non perché sono no vax ma perché ancora non ci sono riuscite non hanno fatto una sola dose oppure da applicare tutte le cose che diceva capezzone sono una stronzata un progetto folle quello che davvero colpisce in queste posizioni assolutamente impermeabili alle regioni di chi punta la protezione massima degli italiani parla messina no e che non si tratta delle argomentazioni di una classica destra legge ordine ma e noi siamo è l'irriducibile ostilità di questi opinionisti d'assalto a ogni strumento che induca gli italiani a proteggere se stessi e gli altri dalla più spaventosa pandemia del secolo rivela solo una facile demagogia da bar per catturare lettori novax con la stessa disinvoltura con cui ieri si invocava la fine del lockdown e si contestavano le mascherine per lisciare il pelo a chi denunciava la dittatura sanitaria mentre i camion dell'esercito trasportavano le bare verso i forni crematori un populismo da marciapiede l'immortacci sua e il mio sarebbe un populismo da marciapiede caro messina toc toc mi sono vaccinato dico che ci deve vaccinare mi impegno per incentivare i vaccini a differenza di altri che legittimamente la pensano diversamente da me ma mi chiedo sono io un populista o lo stato che non ti obbliga al vaccino perché giustamente non ti può obbligare a un vaccino per un ragazzo di 14 anni o 15 anni o 16 anni che da questa malattia non ha nessuna conseguenza per il 99,9 per cento sono io un populista o sei tu che parli di camion di bare di obbligo di green pass e non di obbligo vaccinale cioè questi hanno perso il cervello e perciò daniele perché il giornale unico del virus punta tanto su questo green pass io non ci posso credere che loro godano a chiuderci tutti a casa non è possibile guarda io ti confesso messina e dintorni ammettilo sono prevedibili no cioè i comunisti sono prevedibili perché alla fine qual era il loro schema per trent'anni non sei comunista e allora sei fascista cioè l'idea che uno non sia fascista ma sia semplicemente liberale o non comunista qui stesso gioco fai di leo